Vi lascio solo però con due domande. Primo, a voi risulta che i funghi abbiano una legge diversa rispetto agli altri frutti e verdure, genere inventari, ovvero sia i funghi sono esclusi dall'obbligo nell'etichetta di mettere dove sono stati presi, la qualità, il prezzo? Da quello che io vedo in giro sembra che siano esclusi perché nessuno dice questi funghi da dove vengano, da quale parte del mondo vengano. E infine, sentivo proprio stamattina che c'è in corso in tutta Italia un'operazione della Guardia di Finanza che sta sequestrando le apparecchiature dei semafori T-Red, quelli che qui abbiamo a Cogorno e a Carasco, la domanda è stanno sequestrando e arrestando come stanno facendo in tutta Italia gli amministratori anche dei nostri comuni o purtroppo qui ci dobbiamo ancora tenere questi semafori mentre dalle altre parti d'Italia la finanza li sequestra e arresta i responsabili. Io a questa seconda domanda non ho ancora risposta, speriamo di averla nei prossimi giorni. Amici, io vi saluto, naturalmente, come sempre, occhio e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.